Un frosinone incontenibile, stende il racing e si prende i tre punti per tentare di tenere in piedi le sue speranze di semifinale. Gara di fatto ma in discussione, dopo neanche un minuto, Palma ruba già il primo pallone del match, infilandosi in aria e scoccando il diagonale che sblocca l'incontro. Appena due giri di lancette più tardi, il numero 11 veste invece i panni dell'uomo assist, servendo il taglio di Di Palma che cala il raddoppio. Il tris potrebbe arrivare già al ventunesimo, ma Vento risponde bene a Di Monaco. Il numero 1 del racing però può poco al venticinquesimo, quando sull'angolo dalla destra la difesa si dimentica di Ludovici che da due passi imbuca anche il 3-0. Nel finale ecco materializzarsi anche il poker, Gidillo fa il vuoto sulla destra e mette Di Palma in condizioni di calciare un rigore in movimento. Nella ripresa il monologo continua già al primo minuto, quando Antelmi scende sulla sinistra e sul secondo palo pesca a Braghini che da due passi fa 5-0. Al sedicesimo le marcature potrebbero già salire a 6 se Vento non si confermasse il migliore dei suoi, dicendo no prima a Lombardo e successivamente a Di Monaco. Il numero 17 riesce però a rifarsi con gli interessi al diciannovesimo, levando le ragnatele dal 7 e timbrando quello che probabilmente diventa il gol più bello del pomeriggio. Nel finale sale poi alla ribalta Mazzaroppi che nel brevissimo spazio di 60 secondi tra il ventunesimo e il ventiduesimo sigla prima il 7-0 e poi l'8-0. L'onore di fissare il punteggio sul 9-0 spetta però a Capitano Bragaglia che al ventiquattresimo raccoglie il tiro sparato sulla traversa da Potenziani, chiudendo definitivamente il tabellino.